Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleirde, bentornati a T-Sport, l'appuntamento con l'informazione sportiva della provincia di Firenze e della regione toscana in onda 5 giorni su 7 su Teleiride. Oggi apriamo la nostra rassegna sportiva parlando ovviamente del derby della provincia di Firenze, del derby dell'Arno, il derby che si giocherà il 22 novembre, domenica 22 novembre al Franchi alle ore 15 tra Fiorentina ed Empoli. Una gara sicuramente interessante dal punto di vista calcistico, visto che sia la Fiorentina sia l'Empoli sono due tra le squadre ad esprimere il miglior calcio in questo campionato di Serie A. È una sfida ovviamente interessante per tutta la provincia di Firenze che verrà coinvolta con entrambe le tifoserie. A proposito delle tifoserie, proprio in questi giorni la Fiorentina ha diramato un comunicato ufficiale che invita i tifosi a non portare con sé materiale pirotecnico, quindi petardi e quant'altro, proprio perché siamo in un periodo particolare dopo i fatti di Parigi. E quindi questa è l'iniziativa voluta dalla Fiorentina, ovviamente fra l'altro l'iniziativa che verrà promossa in tutti gli stadi della Serie A e chi verrà trovato in possesso di materiale pirotecnico rischia fino a cinque anni di Daspo. Per quanto riguarda la partita, ovviamente domani la conferenza stampa di Paolo Sosa che anticiperà dunque i temi della gara e magari darà anche qualche indicazione sulla formazione, formazione che rimane avvolta da qualche enigma per quanto riguarda la Fiorentina. In principal modo si tratta dell'enigma della fascia destra dove con l'infortunio di Cuba Blascikowski si combatte per un posto da titolare e ovviamente a voler quella maglia sulla corsia di destra sono Bernardeschi, Rebic e Gilberto con i primi due sicuramente in vantaggio. Sull'esterno brasiliano, oltretutto c'è un ballottaggio anche per quanto riguarda l'attacco con Babacar che al momento sembra favorito su Kalinic, l'attaccante croato infatti ha preso parte alla spedizione della sua nazionale, ha segnato nell'amichevole vinta dalla sua Croazia 3-1 contro la Russia ma non ha potuto lavorare con Paolo Sosa, cosa che invece ha fatto Babacar e che ha fatto anche Giuseppe Rossi. Dunque almeno su questi ultimi due nomi Paolo Sosa ha potuto lavorare nel corso di due settimane e considerando finora le indicazioni che sono arrivate dall'allenatore Lusitano per questo sia Babacar sia Rossi sembrano favoriti per una maglia da titolari. Andiamo intanto ad ascoltare le parole di uno dei protagonisti di questo incontro però sponda Empoli, visto che la conferenza stampa di Paolo Sosa arriverà domani noi intanto ci ascoltiamo le parole di Skorupski, il portiere dell'Empoli in prestito della Roma che parla di varie tematiche, proprio del derby di domenica ma anche di quello vissuto con la sua Roma contro la Lazio e ovviamente poi parla anche dell'incontro della Fiorentina, ovvero della partita giocata da Skorupski in Europa League contro la Fiorentina quando vestiva la maglia della Roma. Sì, sono bella squadra però noi lavoriamo sempre bene quindi non abbiamo paura di nessuno andiamo là e speriamo... io gioco sempre con la mia squadra per vincere quindi spero che torniamo a Empoli con tre punti di più. Sì, ho visto belle derby a Roma però qui sentono tanto anche i tifosi della Lempoli, della Firenze abbiamo visto ieri sull'Alemento, sono venuti i nostri tifosi e era una bella cosa per noi perché a me queste cose molto caricano quindi speriamo bene. Secondo me, io credo tanto, anche mia squadra penso che crede tanto che possiamo vincere questa partita. Sì, questo anno per me è molto importante perché sono terzo anno in Italia però ero due anni a Roma, non giocavo tanto, ero sempre secondo portiere quindi ho deciso con la società che voleva andare in prestito sono venuto qua e sono molto contento che il mister Giampaolo mi ha dato tanta fiducia e sono primo portiere qua. Voglio fare tutto e ringraziare tanto a lui che mi ha dato questa fiducia. Sì, giocavo contro la Fiorentina Europa League, non era una bella partita per me però ora sono qua, gioco a Lempoli, spero che faccia una bella partita e guadagniamo tre punti di più. Abbiamo sentito le parole di Skorupski, portiere polacco del Empoli ma non è l'unico polacco della gara, tra questi c'è ovviamente anche Zienlinski che dovrebbe partire titolare come mezzala nel centrocampo a tre di Marco Giampaolo non ci sarà invece come detto anche in precedenza Cuba Blasikowski che ha rimediato un infortunio proprio con la nazionale polacca e dunque non sarà della partita. Però Skorupski ha parlato proprio di Blasikowski conosciuto attraverso l'esperienza in nazionale e anche di Zienlinski quindi in generale del movimento polacco calcistico. No, è il mio amico, siamo conosciti a nazionale perché prima andavo ora non sono andato, però lui è una molto brava persona siamo sentiti, mi dispiace che lui ora è infortunato che sta male e non gioca contro noi perché è una bella cosa perché penso che anche Zienlinski domenica gioca in titolare quindi se giochiamo tutti i tre è una bella cosa però mi dispiace che lui è infortunato. E queste dunque le parole a proposito di Cuba Blasikowski da parte di Skorupski, portiere dell'Empoli continueremo a seguire ovviamente le tematiche inerenti alla Fiorentina lunedì ci sarà ampio spazio proprio per l'analisi di quello che sarà stata la gara di domenica infatti vi ricordo che dalle 21.20 inizierà il programma dedicato all'Empoli a come azzurro, sempre con la conduzione di Erika Calvani poi a seguire dalle 21.50 la trasmissione Viola Express dedicata proprio a tutte le tematiche inerenti la Fiorentina. Adesso andiamo a parlare di un altro derby sempre della provincia fiorentina che si disputerà proprio nello stesso giorno di Fiorentina-Empoli ma qualche ora dopo infatti alle 18 di domenica sarà la volta per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di pallavolo femminile del derby tra Savino del Bene Vole Scandicci e il Bisonte Firenze noi abbiamo analizzato questa gara attraverso il servizio Com'è strano il calendario ad inizio dell'anno guardandolo distrattamente sembra che i giorni siano ammassati lì per caso uno dietro l'altro senza un particolare significato poi vendolo giorno dopo giorno vien da pensare che la distrazione umana faccia da contraltare un progetto molto preciso del destino capita così che il 22 novembre il termine derby della provincia di Firenze diventi buono per raccontare due grandi eventi sportivi alle 15 nella Serie A del calcio sarà infatti il momento di Fiorentina-Empoli ma alle 18 arriverà un altro derby fiorentino di massimo livello stiamo parlando di Savino del Bene Vole Scandicci il Bisonte Firenze partita che si giocherà al palazzetto di Scandicci proprio poche ore dopo il triplice fischio del derby calcistico e che varrà per il settimo turno del campionato di Serie A1 femminile di pallavolo se per la maggior parte dei fiorentini però la gara con l'Empoli non assorge al valore dei derby molto più sentito da entrambe le compagini e dai loro tifosi è invece il derby che si giocherà sotto rete le due formazioni fiorentine sono infatti divise da una rivalità sportiva che negli scorsi anni ha portato a fiumi di pubblico sugli spalti e gare entusiasmanti premesse di spettacolo che quest'anno se possibile sembrano ancora più importanti la Savino del Bene arriva al derby con una classifica migliore rispetto a quella del Bisonte Scandicci è infatti settima con nove punti conquistati sei in più di una Firenze che attualmente si ritrova al penultimo posto diverso anche il periodo di forma delle due squadre con la Savino del Bene che dopo un avvio positivo la prima giornata quando superò Buster Sizio e dopo due sconfitte consecutive con Bergamo e Piacenza ha messo in serie due successi consecutivi battendo Bolzano e il Club Italia il Bisonte invece viene da un momento particolarmente negativo e adesso la vittoria la seconda giornata contro la corazzata Piacenza sembra soltanto un ricordo il Bisonte sembra infatti meglio rappresentato dall'ultimo K.O. interno la squadra di Vannini una settimana fa ha infatti perso sul campo di casa un match salvezza come quello contro l'obiettivo risarcimento Vicenza una sconfitta che insieme alle altre quattro arrivate in questo campionato hanno ridimensionato un po' i rinnovati obiettivi delle Fiorentine che dopo la salvezza dell'anno scorso quest'anno puntano a qualcosa di più i precedenti di Serie A1 e il roster decisamente più competitivo dicono che la favorita d'obbligo è la Savino del Bene che nello scorso campionato vinse entrambi i match quello in casa per 3-1 quello al Mandela Forum casa del Bisonte addirittura per 3-0 nei sei precedenti di A2 invece tra campionato Coppa e Playoff il bilancio è tutto a favore del Bisonte che all'epoca ancora come squadra di San Casciano vinse 5 dei 6 incontri disputati i roster dei giorni d'oggi sono però molto diversi la Savino del Bene dovrebbe presentarsi con l'ormai collaudato sestetto di coach Bellano formato da Rondon Peterson Toksoi Nicolova Stufi e Loda con Merlo come libero il sestetto di coach Vannini invece dovrebbe essere Van de Viver Calloni Negrini Turlea Ninkovic Van Zurova al di là delle annotazioni tattiche sarà una partita speciale per Paolo Nocentini patron della Savino del Bene e Vanni De Filippo patron del Marchio il Bisonte divisi da una storica rivalità sportiva ma uniti da un'amicizia molto competitiva speciale inoltre la gara per alcuni atleti da Turlea che mercoledì ha compiuto 40 anni a Van Zurova Perinelli e Mazzini che si ritroveranno di fronte a Scandici per la prima volta da avversarie i riflettori magari saranno puntati sul Franchi ma come detto ci sono tutte le premesse per vivere alla grande l'altro derby fiorentino della settimana e ovviamente Teleiride sarà presente per seguire il derby tra Savino del Bene Scandici e il Bisonte Firenze partita che poi vi riproporremo anche nei classici appuntamenti di mercoledì pomeriggio durante il pomeriggio sport e di giovedì sera in prima serata scusate a partire dalle 21.20 ovviamente questo tenendo conto di una durata normale per così dire della partita in caso poi di tie break di durata prolungata dell'incontro si anticiperà l'orario di messa in onda per quanto riguarda lo sport fiorentino non ci possiamo però fermare a calcio e pallavolo ma dobbiamo parlare anche del rugby perché in Serie A con questo weekend inizia il girone di ritorno della prima fase del campionato di Serie A della palla ovale e allora per le due Toscane impegnate in questo campionato è veramente un momento decisivo andiamo a scoprire tutti i dettagli nel prossimo servizio al giro di Boa la prima fase del campionato di Serie A di rugby inizia il suo girone di ritorno e per le Toscane della palla ovale è già un momento decisivo chi concluderà i primi tre posti del girone la sua cavalcata in questa prima parte di stagione potrà tentare fortuna in uno dei due gironi da sei squadre della pool promozione chi invece chiuderà negli ultimi tre posti del proprio raggruppamento dovrà lottare fino alla fine del campionato per evitare l'elettrocessione domenica così impegni non banali per i Medicei e per il Prato Sesto i Medicei attualmente seconda forza del girone 4 con 16 punti hanno dovuto salutare il mediano d'apertura Agustin Cartier l'argentino infatti per motivi personali rientrerà in patria dopo appena due mesi dal suo arrivo a Firenze i biancorossi comunque proveranno a consolidare la loro posizione in classifica sul campo di casa dove affronteranno il fanalino di coda a Cus Roma i fiorentini di coach presutti alla seconda gara interna consecutiva dopo quella vinta nello scorso weekend contro il Gran Sasso Rugby affronteranno una squadra che ad oggi ha ottenuto una sola vittoria e quattro sconfitte e che all'andata fu battuta con un netto 31 a 15 se i Medici affronteranno l'ultima in classifica del loro girone il Prato Sesto avrà invece di fronte la capolista del gruppo 1 ovvero lo Junior Rugby Brescia la squadra guidata dal duo Otagno e Wakarua attualmente quinta in classifica dovrà dunque impegnarsi in una difficile trasferta con il compito di vendicare la sconfitta 3 a 5 dell'andata e di ricucire il gap che la separa dalle prime tre posizioni un gap per il momento di un solo punto e questo dunque il fine settimana del Rugby di Serie A con i Medici e il Prato Sesto impegnati in match molto diversi come avete capito insomma Medici che affronteranno l'ultima del proprio girone ovvero il Cus Roma mentre per il Prato Sesto arriva lo Junior Rugby Brescia club che attualmente si trova al primo posto nel girone 1 della prima parte di stagione della Serie A di rugby adesso ci spostiamo andiamo a parlare di pallacanestro andiamo in Serie B nel girone B dove milita la Fiorentina Basket che si trova all'ultimo posto in classifica con soli due punti conquistati per la Fiorentina Basket dopo sette sconfitte consecutive arriva a un impegno importantissimo contro un'altra squadra inguaiata nelle posizioni basse di classifica una chiamata una ultima chiamata per la squadra di coach Salieri che vi raccontiamo attraverso le parole e le immagini del prossimo servizio la Fiorentina Basket in occasione della nona giornata del campionato di Serie B girone B giocherà in trasferta a Moncalieri contro la Ulmag si tratta di una vera e propria sfida salvezza visto che in classifica la squadra di Giacomuzzi occupa l'ultimo posto insieme alla Fiorentina ed a Mortara le due squadre possono vantare una sola vittoria e conquistata in entrambi i casi sempre contro Padova la squadra gigliata in Piemonte tenterà di conquistare il primo successo esterno della stagione col quale interromperebbe una striscia di risultati negativi che ha raggiunto quota sette sconfitte consecutive la palla 2 al Palainaud di Moncalieri è prevista alle ore 20 e 30 di sabato 21 novembre agli ordini degli arbitri Paolo Puccini di Genova e Andrea Capponi di La Spezia il coach gigliato Stefano Salieri ha presentato così la gara a Moncalieri saremo ancora in emergenza assoluta nel reparto esterni in quanto saranno tre a mancare conto però che sia l'ultima in quanto dalla prossima settimana pur con tutte le cautele del caso e dopo un'ulteriore via libera dello staff medico sia Caroli che Bianchi riprenderanno con il gruppo questo è già un notevole passo avanti perché la squadra potrà riprendere una sua fisionomia corretta e un'identità precisa che oggi non possiamo avere la società ed in particolare il presidente ci sono vicini e non ci fanno mancare il loro concreto sostegno e questo è un bel segnale per tutto l'ambiente che si tradurrà in qualche faccia nuova nel breve e medio periodo che ci sarà d'aiuto per centrare l'obiettivo della salvezza Moncalieri è una squadra in linea con le caratteristiche di questo girone estremamente fisica con tutti i giocatori medio-alti Tassone l'ex-Africo Conti Gioria e il pivot Cattapan 212 cm scuola Virtus Bologna sono i punti di forza di una squadra molto solida come assieme non andiamo certo in trasferta con uno spirito dimesso ma con la voglia e la determinazione di dare tutto e di più per fare risultato Il risultato positivo che sarà fondamentale per la Fiorentina Basket per riaprire un campionato che davvero ha visto la formazione viola stentare in queste prime otto giornate di campionato andiamo a parlare adesso anche di pallannuoto di Serie A1 maschile di pallannuoto e dunque di Raninantes Florenzia la squadra allenata da coach Vannini attualmente si trova al penultimo posto in classifica con appena tre punti conquistati e nell'ultimo turno ovvero nell'ottava giornata di campionato ha affrontato la prima in classifica Prorecco nuoto e pallannuoto in una gara persa per 18 a 4 proprio nelle acque della piscina dei Liguri adesso per la formazione di Vannini si apre una giornata sicuramente più accessibile in pratica in queste due giornate per la squadra fiorentina è un testa coda perché dopo aver affrontato la capolista Prorecco arriva a Firenze nella piscina Bella Riva la Raninantes Sori ultima in classifica con zero punti attualmente conquistati quindi partita sicuramente importante per la Raninantes Florenzia che ad oggi appunto ha solo tre punti conquistati nel corso della gara vinta contro il circolo Canottieri Ortigia per la Florenzia l'impegno della piscina Bella Riva è quello di sabato 21 novembre con la partita che verrà disputata alle ore 16 dunque domani alle 16 l'appuntamento con la palla a nuoto alla piscina Bella Riva a piscina Nannini per conoscere quale sarà il destino in questa nona giornata della Raninantes ma in più in generale per conoscere quale sarà il destino della squadra fiorentina nel corso di questo campionato visto che la partita contro Sori è davvero uno degli sparti acque della stagione parliamo adesso anche di Pallamano Pallamano di Serie A maschile e in particolar modo entriamo all'interno del girone B del girone della Pallamano Ambra squadra di Poggio Accaiano che attualmente è terza forza del campionato di Serie A maschile del girone B della Serie A maschile la squadra di Poggio Accaiano attualmente ha giocato sette gare e ha vinto in quattro occasioni perdendo invece in altre tre partite nell'ultimo incontro di campionato come vi avevamo detto anche la scorsa settimana l'Ambra ha affrontato Romagna nella più classica gara contro la prima in classifica Ambra che ha perso 16 a 19 nel palazzetto di casa con appunto la squadra che attualmente comanda il girone e che attualmente è prima grazie a otto vittorie in otto partite giocate quindi mai sconfitta Romagna nel fine settimana domani a partire dalle 18 arriva l'impegno per la squadra di Poggio Accaiano contro Cingoli si gioca sul parquet della squadra avversaria quindi sul parquet di Cingoli con la squadra che affronterà Ambra che attualmente si trova settima in classifica nelle sette gare fin qua disputate due vittorie e cinque sconfitte per Cingoli che dunque dovrebbe essere avversario abbordabile per la palla a mano Ambra che ha nei suoi obiettivi quello di rimanere all'interno delle prime tre posizioni per cercare insomma di accedere alla Coppa Italia e ovviamente anche ai playoff che poi decideranno chi vincerà il campionato italiano ricordo infatti che sono tre i gironi a dare l'accesso ai playoff l'A il B e il C Ambra impegnata in questa stagione nel girone B e dunque aggrappata con le unghie e con i denti all'attuale terza posizione in classifica che attualmente gli vale 12 punti ovvero 12 in meno della capolista Romagna e 6 in meno della seconda in classifica Terraquilia Carpi chiudiamo parlando anche di calcio femminile in particolar modo di Fiorentina la Fiorentina femminile che è reduce e lo state vedendo proprio nelle immagini dalla gara di Coppa Italia contro San Zaccaria una gara sfortunata per i Viola visto che è arrivata una sconfitta 2 a 0 che ha segnato di fatto l'eliminazione dalla Coppa della squadra di Saurofattori un 2 a 0 sfortunato perché la Fiorentina ha attaccato in lungo e largo per tutta la partita ma poi non è riuscita a concretizzare e ha subito i due gol di San Zaccaria che quindi si è qualificata al prossimo turno di Coppa Italia per quanto riguarda il campionato Fiorentina che affronterà in questo turno il Pink Sport Time squadra barese che arriverà a Firenze per giocare al campo di San Marcellino sabato alle ore 14.30 dunque partita che verrà disputata a San Marcellino alle 14.30 di domani e Fiorentina già chiamata a un esame di maturità visto che una vittoria sarà molto importante dopo che anche negli ultimi turni di campionato la squadra di Fattori non è riuscita a raccimolare punti infatti la Fiorentina ha vinto sì ma solo nella prima gara stagionale la prima gara di campionato disputata però lontano dal campo amico dunque sicuramente si attende tra il pubblico fiorentino il primo successo casalingo T-Sport giunge in chiusura giunge in conclusione io vi ricordo insomma che anche la prossima settimana il nostro pomeriggio sport sarà ricco di appuntamenti a vostra disposizione dalla gara che vi abbiamo ricordato in precedenza tra Savino del Bene Scandicci e il Bisonte Firenze fino alla partita della palla a nuoto ovvero quella della Rari Nantes Florenzia impergnata contro la Rari Nantes Sori e vi ricordo anche che a seguire Viola Express il nostro programma dedicato alla Fiorentina in onda dalle 21.50 di lunedì andrà in onda la partita della Fiorentina femminile contro il Pink Sport Time appunto la squadra barese di cui stavamo parlando pochi istanti fa per quanto riguarda poi il calcio di lettanti non vi perdete l'appuntamento con Zona Gol in onda martedì alle 14.30 scusate martedì a partire dalle 21.20 tutto l'approfondimento sul calcio dei direttanti a partire dalla Serie D fino ad arrivare alla seconda categoria quindi sicuramente appuntamento importante per chi vuole conoscere meglio le categorie inferiori le categorie minori T Sport termina qua come detto e dunque da Fabio Ferri un saluto arrivederci un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleiride noi ovviamente ci ritroveremo in questo appuntamento di T Sport a partire da lunedì ore 18.30 con sempre i soliti argomenti ovvero sempre tanto sport e tanta informazione dedicata alla provincia di Firenze e la regione toscana per oggi è tutto un saluto e ovviamente appuntamento a lunedì di Firenze